Iniziamo la nostra serata, quindi è ora di chiamare qui sul palco gli artisti di questa sera. Facciamo un bel applauso ad Andrea Ceccomori e a tutti gli artisti che lo accompagneranno in questo bellissimo concerto. Ecco, un bel applauso. Poi li presenterà Andrea, quindi uno per uno. Grazie Chiara, giudice. Grazie. In frattempo sentite un sottofondo durato da Andrea Maffei che prima non l'ho presentato ma Andrea Maffei all'elettronica. Questo brano si chiama Mariposa, quindi il titolo della farfalla come il nostro simbolo di trasformazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.